Frixair è la nuovissima attrezzatura in grado di accrescere l'immagine, così come i profitti di ogni locale. Frixair aiuta a preparare antipasti, primi piatti, secondi, dessert. Con Frixair si ottengono mousse, sorbetti, gelati, salse, zuppe, cocktails e stuzzichini. Frixair funziona in modo facile. Frixair 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 Grazie a tutti 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 Carpaccio di ananas con musse di tonno Crema di patate e scampo Zuppa di asparagi con turbante di sogliole e gallo Risotto allo zafferano con musse di parmigiano Risotto allo zafferano con musse di parmigiano Riccerelle con salsa di broccoletti e salmone Filetto di vitello con porcini e salsa di senape antica Parmigiana di coda di rospo con musse di formaggio e melanzana Sorbetto agli agrumi Sorbetto alle fragole Gelato alla crema con fantasia di frutta Tritico di musse di crema Torroncino nocciola Irish Coffee